Senigallia, 24 maggio 1915 La stele, di forma tronco piramidale, alta 79 cm, alla base larga 50 cm e profonda 32 cm, è situata in un trafficato in croce della nostra città, a breve distanza dal centro storico, sopra uno stretto marciapiede. È poco visibile ai passanti perché spesso, proprio davanti, si trovano macchine parcheggiate. Nella stele troviamo scritti i nomi, la circostanza e la data della morte dei tre uomini. Partendo da queste poche informazioni, abbiamo cercato di ricostruire la storia di queste tre persone. Le nostre ricerche si sono svolte negli archivi storici senegalliesi del Comune, del Cimitero, dello Stato Civile, di Palazzo Mostai e infine alla Biblioteca Antonelliana di Senigallia. Inoltre, abbiamo consultato gli archivi online dell'Associazione Nazionale Marinale d'Italia e dei quotidiani La Stampa, Il Corriere della Sera, Il Popolo d'Italia, Il Secolo. Infine, abbiamo preso i contatti con i discendenti residenti a Senigallia di Borgognoni, Pompei e Mori. Nessuno dei tre, però, ha consentito ad essere ripreso o registrato durante le interviste. La sera del 23 maggio 1915, a dieci mesi dell'inizio della Grande Guerra, l'Italia abbandona la scelta di neutralità e dichiara guerra all'Austria-Ungheria, schierandosi a fianco della Gran Bretagna e della Francia. L'esercito italiano, formato da soldati volontari e richiamati, viene schierato dallo Stelvio al mare Adriatico fino a Mon Falcone. La flotta austriaca, pronta da giorni a Pola, al momento della dichiarazione di guerra, si lanciò verso i porti italiani del mare Adriatico. Otto squadre, tredici navi da battaglia, tredici caccia torpediniere, trenta torpediniere e cinque navi esploratrici salparono le notte del 23 maggio e poche ore dopo iniziarono l'attacco. Rimini, Porto Corsini, Senigallia, Fano, Pesaro, Porto Potenza Picena, Porto Recanati e Manfredonia furono colpite tra le 4 e le 6 del mattino del 24 maggio. Alle ore 3 e 15 delle forze navali austrieche cominciarono a tirare contro Senigallia. Furono sparate alla distanza di appena 4 o 5 chilometri, oltre 60 cannonate. I proiettoli trovati fanno ritenere che i cannoni fossero da 305. Il palazzo dell'albergo Roma è lesionato in parecchi punti. Il casello ferroviario che sorgeva sul ponte girevole è stato distrutto. Così pure è quasi interamente distrutto il pastificio Chiostergi. Anche altre case della città sono danneggiate. I pali telegrafici della luce sono spezzati o abbattuti. Circa le 4 e 30 è stato fatto partire un treno di milizie, giunto a Senigallia e precisamente in ansia a Villa Aosta fu colpito. Un vacone, dice sempre il corrispondente dell'ordine, è stato distrutto. Sono morti otto soldati, altri sono feriti. I morti che si contano a Senigallia sono finora 14, molti i feriti. Nelle vicinanze del tiro a segno è stata arrestata una spia tedesca che avrebbe pernottato nella casa di certo secondo Calidoni di Monterado, che, 25 anni or sono, ha sposato un'austriaca con la quale convive. A stento i carabinieri sono riusciti a salvare dall'ira popolare il Calidoni che si protestò innocente. Un povero operaio, mentre usciva da una casa che crollava e miracolosamente era scampato al pericolo, attraversando la strada incontrò un filo elettrico che lo fulminò. Correvoce che uno straniero vestito da prete sia stato sorpreso mentre tentava a minare il ponte di Senigallia. Anno 1915. All'alba del 24 maggio, primo giorno di guerra tra l'Italia e l'Austria, la flotta astriaca sottopone la città ad un violento bombardamento. Moltissimi danni. Rimasero vittime i concittadini Bernardo Bramucci, Federico Cancelli, Pietro Papi, Carmela Serretti, Cesare Tesei, i semaforisti Alessandro Borgognoni, Rodolfo Mori, Nicola Pompei e il maresciallo di cavalleria Francesco Ioppolo. Morirono anche 12 soldati del 135esimo battaglione che viaggiavano in un treno militare che venne centrato poco prima di entrare in stazione dai cannonieri austriaci. Il sindaco Aroldo Belardi, nei giorni successivi al bombardamento, attraverso manifesti affissi in città, invitava la popolazione a mantenere la calma e la tranquillità, a riprendere le loro occupazioni, a riaprire i negozi, confidando nelle autorità civili e militari, che avrebbero disposto misure tempestive per la tutela dell'incolumità pubblica. Nel manifesto, il sindaco indicava alla popolazione i luoghi sicuri di rifugio in caso di pericolo, Palazzo Camerata in Piazza del Duca, Palazzo Frati di San Martino, Palazzo Mostai, Centrale Elettrica fuori Piazza Saffi. Inoltre, si informavano le famiglie di soldati che il 13 giugno 1915 avrebbe iniziato a funzionare in città il Segretariato del Soldato, un ufficio che aveva il compito di facilitare e accelerare la corrispondenza e le relazioni tra i comuni militoni e le loro famiglie, di ricercare informazioni e notizie sui soldati, senza però accettare raccomandazioni di alcun genere per trasferimenti licenze. Il settimanale cattolico, la Voce Misena, è l'unico giornale senegalese che continua ad uscire durante la guerra, seppur non in modo regolare. Nel numero del 5 giugno 1915 è scritto in prima pagina La prova dolorosa che le barbarie austriaca ha voluto infiggere l'unidì 24 maggio alla nostra città ridesta ancora, al solo pensarci, un profondo senso di raccapriccio e di pietà. Sulla salma delle povere vittime versiamo lacrime e fiori, inchinandoci ad esse con animo pieno di commozione e di speranza. Immolata al cieco furore del nemico scoccherà anche per loro, vogliamo sperarlo, la fatale rivendicazione. Scoccherà col grido stesso della vittoria delle nostre armi, che è la vittoria della patria. I nostri uomini che lasciano il campo, lasciano l'officina, vogliono fraterno impulso di esempi, cordiale accompagnamento e di aiuti. Viva l'Italia! Nello stesso numero si dà notizia della presenza in città di Giovanni Bertini, deputato del Partito Popolare Italiano. Il mercoledì 26 maggio, Bertini, oltre a visitare luoghi bombardati e manifestare vicinanza alla cittadinanza, annuncia un sostegno di Lire 2500 per soccorsi alle vittime. Nei numeri del 5, 12 e 19 giugno 1915, nelle pagine interne, si leggono articoli in difesa del Vescovo Tito Maria Cucchi e dei preti, accusati di essere d'accordo con i tedeschi. Il Vescovo, trovandosi il 23 e 24 maggio fuori città, a Serra dei Conti, per una visita pastorale programmata a gennaio, viene accusato di tradimento, perché è segretamente informato dagli austreci dell'imminente bombardamento. Infernale ridda d'accuse e i sistemi diabolici delle spie false, sono i titoli di due articoli rispettivamente del 12 e del 19 giugno. Senigallia è sempre stata una città con una forte presenza di anticlericali, i quali, anche in questa drammatica situazione, hanno trovato un pretesto per diffamare la Chiesa, accusando il Vescovo di connivenza con il nemico. Partendo dall'informazione contenuta negli annali di Monti Guarnieri, che le vittime Borgognoni Pompei e Mori erano semaforisti, abbiamo ricercato i loro nomi nell'albo d'oro dei militari della Marina Italiana, e così abbiamo scoperto che i primi tre caduti nella Grande Guerra sono proprio i nostri tre concittadini. Alessandro Borgognoni Era nato a Senigallia il 24 ottobre del 1889 e abitava a Montignano di Senigallia, in via Marina 176. Era il secondo genito di Borgognoni Cesare Spaccarelli Italiana. Apparteneva ad una famiglia di pesci vendoli e lui stesso svolgeva questo mestiere. Il fratello maggiore, Giuseppe, del 1887, era emigrato in America. La sorella Maria era del 1891 e il quarto genito Antonio del 1900. Alessandro si era sposato all'età di 25 anni con Esther Ghezzi il 27 aprile del 1915, esattamente poco meno di un mese prima della sua tragica morte. Abbiamo incontrato il nipote Giraldo, figlio di Antonio, residente a Marzocca di Senigallia. È lui che per primo ci ha dato l'importante informazione che nel punto esatto in cui è stata posta la stele, in via Mercantini, avvenne la morte di suo zio Alessandro. Purtroppo non ha documenti scritti o fotografici, ma ci ha dato le indicazioni per trovare la tomba dove Alessandro è seppellito, nel cimitero di Montignà di Senigallia. Nicola Pompei Abbiamo incontrato il nipote del 1938, figlio di Remo, che porta il nome Nicola, lo stesso del nonno morto. Da lui abbiamo avuto la conferma che il luogo in cui si trova la lapide in via Mercantini è dove suo nonno morì con i due compagni, mentre si recavano a piedi a Sant'Angelo, frazione collinare della città, incaricati di inviare segnali. La famiglia non ha alcuna informazione relativa alla sua sepoltura. Facendo una ricerca nell'archivio storico del cimitero comunale, partendo dal nome e dalla data di morte, abbiamo scoperto che la salma del marinaio Nicola Pompei è nel sacrario militare della Prima Guerra Mondiale. Rodolfo Mori Era nato a Senigallia il 6 maggio del 1877, da Cesare Mori e Matilde Mengucci. Erano contadini e abitavano a Scapezzano di Senigallia, in via Camposanto Vecchio. La famiglia lo ha sempre chiamato Dolfo, ma negli atti del comune di Senigallia e della marina militare è riportato il numero Dolfo. Questo potrebbe spiegare la correzione molto evidente della stele. Aveva un fratello maggiore, Leandro, padre di Gina del 1911, Adalgisa del 1915, Cesare del 1917 e Adolfo del 1920. Quest'ultimo, residente a Senigallia, ci ha raccontato che i genitori gli avrebbero messo il nome di Adolfo per rinnovare quello dello zio morto nella Grande Guerra. Rodolfo è sepolto nel cimitero di Senigallia, Le Grazie, ma dalla famiglia non abbiamo avuto alcuna informazione. Partendo però dalla data di morte, abbiamo avviato una ricerca presso l'archivio storico del cimitero. Abbiamo così individuato la tomba dove si trova anche una foto di Rodolfo. Chiara Alfonsi, Eleonora Angeletti, Giulia Barucca, Francesco Bonazza, Benedetta Carboni, Nicola Scatalani, Simone Cavallari, Letizia Cicetti, Tommaso Fabrizi, Agnese Fizzardi, Alessandro Gianbenedetti, Aurora Ippoliti. Benedetto Luzzietti, Eros Malanga, Nicola Marchetti, Nicola May, Alessio Montesi, Leonardo Passoni, Tommaso Pierfederici, Alessandro Pongetti, Venonica Rossi, Lorenzo Scatolini, Alessandro Sebastianelli, Federico Talone. Questo percorso di ricerca storica, partendo dalle poche informazioni incise in una stele della nostra città, ha avuto una duplice valenza. Prima di tutto ha permesso ai ragazzi di sperimentare il mestiere dello storico. Entrare in un archivio, leggere documenti, ricercare notizie e informazioni, muoversi sul proprio territorio alla scoperta di tracce del passato. In secondo luogo, studiare in parallelo la storia della Grande Guerra e la storia di tre giovani marinai senigalliesi, vittime delle prime azioni belliche, è stata una preziosa occasione di riflessione sui conflitti armati di ieri e di oggi. La guerra, al di là dei risultati ufficiali scritti nei libri di storia, ha preferite profonde nelle famiglie e nella società civile. Porta ovunque morte, distruzione e sofferenza. Non è appropriato studiare le guerre distinguendo vincitori e vinti. L'uso delle armi e della violenza rende ogni uomo sconfitto, qualunque sia il popolo o il gruppo di appartenenza. Attraverso la memoria storica, il passato viene consegnato alle nuove generazioni come un bene prezioso a cui attingere, per affrontare le nuove sfide del presente e del futuro, per riscrivere e interpretare la storia di oggi.